In famiglia. Il trenvai di Nuyé aveva appena passato la porta Maillot e filava ora lungo il grande viale che sbocca sulla Senna. La macchina, attaccata alla sua vettura, strombettava per evitare gli ostacoli. Sputava il vapore e ansimava come una persona trafelata che corre. I suoi stantuffi facevano un rumore precipitoso di gambe di ferro e movimento. L'afa di una giornata estiva, sul finire, piombava sulla strada, dalla quale si alzava, sebbene non spilasse alcuna brezza, una polvere bianca, gessosa, opaca, soffocante e calda, che si appiccicava sulla pelle madida, riempiva gli occhi e entrava nei polmoni. Alcune persone si affacciavano alla porta di casa cercando un po' d'aria. I vetri della vettura erano abbassati e tutte le tendine fluttuavano, agitate dalla rapida corsa. Soltanto poche persone occupavano l'interno, perché si preferiva in quei giorni caldi l'imperiale o le piattaforme. Erano grosse signore dagli abiti ridicoli, di quelle borghesi di periferia che sostituiscono la distinzione, di cui sono prive con una dignità intempestiva. Signori stanchi dell'ufficio, con il viso ingiallito, la corporatura appesantita, una spalla un po' rialzata, forza di lavorare curvi sui tavolini. I loro volti inquieti e tristi dicevano anche le preoccupazioni domestiche, le continue necessità di denaro, le antiche speranze definitivamente deluse, poiché tutti appartenevano a quell'esercito di poveri diavoli, logori, che vegetano economicamente in una meschina a casa di calcina, con una aiuola per giardino in mezzo a quella campagna, luogo di scarico dei pozzineri che circonda Parigi. Proprio accanto allo sportello, un uomo piccolo e grasso, con il vaso gonfio, il ventre cadente tra le gambe rivaricate, tutto vestito di nero e decorato, chiacchierava con un magro alto, dall'aspetto sciatto, vestito di traliccio bianco sporchissimo e con un vecchio Panama in testa. Il primo parlava lentamente, con esitazioni, che a tratti lo facevano sembrare balbuziente. Costui era il signor Caravan, primo impiegato al Ministero della Marina. L'altro, ex ufficiale sanitario a bordo di una nave mercantile, aveva finito con lo stabilirsi al piazzale di Courbevoie, dove applicava sulla misera popolazione del luogo le vaghe nozioni mediche che gli rimanevano dopo una vita avventurosa. Il suo nome era Chenet e si faceva chiamare dottore. Si murmurava sulla sua moralità. Il signor Caravan aveva sempre condotto l'esistenza normale dei burocrati. Da trent'anni si ragava infariabilmente in ufficio, ogni mattina per la stessa strada, incontrando alla stessa ora, negli stessi punti, le stesse facce d'uomini che andavano per i loro affari, e se ne tornava ogni sera per la stessa via, dove ritrovava sempre gli stessi visi che aveva visto invecchiare. Tutti i giorni, dopo aver comprato il suo giornale da un soldo all'angolo del Faubourg Saint-Honoré, andava a prendersi i due panini, poi entrava al ministero alla maniera ad un colpevole che va a costituirsi, e raggiungeva prontamente il suo ufficio, con il cuore pieno di inquietudine, nell'eterna attesa di una sgridata per qualche negligenza che poteva aver commesso. Nulla era mai venuto a modificare l'ordine monotono della sua esistenza, perché nessun avvenimento lo interessava all'infuori delle cose d'ufficio, delle promozioni e delle gratifiche. Sia al ministero, sia in famiglia, poiché aveva sposato senza dote la figlia di un collega, non parlava mai d'altro che del servizio. La sua mente atrofizzata dal massacrante lavoro quotidiano, non aveva più altri pensieri, altre speranze, altri sogni che quelli relativi al suo ministero. Ma un'amarezza avvelenava incessantemente le sue soddisfazioni d'impiegato. L'accesso dei commissari di marina, i lattonieri, come venivano chiamati per i loro galloni d'argento, al posto di vicecapo, di capufficio. Argomentava vivacemente davanti alla moglie, che condivideva i suoi lavori, che è iniquo, sotto ogni rapporto, concedere impieghi a Parigi, a gente destinata a navigare. Ora era vecchio senza aver sentito passare la vita, poiché alla scuola era succeduto senza transizione l'ufficio e gli istitutori, dinanzi ai quali tremava una volta, erano stati sostituiti dai capi ufficio, che gli temeva terribilmente. La soglia di questi despoti in ottavo lo faceva fremere dalla testa ai piedi, e per effetto di questo continuo spavento egli conservava una maniera goffa di presentarsi, un atteggiamento umile e una sorta di balbettio nervoso. Non conosceva Parigi, più di quanto possa conoscerla un cieco, che il suo cane conduca ogni giorno sotto la stessa porta, e se nel suo giornale da un soldo leggeva gli avvenimenti e gli scandali, li percepiva come racconti fantastici, inventati apposta per distrarre gli impiegatucci. Uomo d'ordine, reazionario senza partito preso, ma nemico della novità, saltava le informazioni politiche, che del resto il suo giornale deformava costantemente per favorire certi interessi retribuiti, e ogni sera, mentre risaliva l'Evnio de Champs-Élysées, considerava la folla agitata come un viaggiatore spaisato che attraversi lontane contrade. Avendo compiuto proprio quell'anno il richiesto trentennio di servizio, il primo gennaio gli era stata conferita la croce della legion d'onore, che nelle amministrazioni militarizzate premia la lunga e misera servitù, si dice servigi leali, di questi tristi forzati incollati alla loro scrivania. Questa dignità in attesa, dandogli un'idea alta e nuova della sua capacità, aveva trasformato in tutto le sue abitudini. Da quel momento egli aveva soppresso i calzoni chiari e le giacche fantasie, indossava calzoni neri e lunghe barsine, dove il nastrino, larghissimo, figurava meglio, e radendosi tutte le mattine, curandosi le unghie con maggior meticolosità, mutando biancheria ogni due giorni, per un legittimo sentimento di convenienza e di rispetto per l'ordine nazionale al quale apparteneva, era diventato dall'oggi al domani un altro caravan, leccato, maestoso e condiscendente. In casa, tutte le circostanze erano buone per dire «la mia croce». Era nato in lui un tale orgoglio da non poter più soffrire all'occhiello degli altri nessun altro nastrino. Si esasperava specialmente alla vista delle decorazioni straniere, che in Francia dovrebbero essere proibite, e ce l'aveva in modo particolare col dottor Chenet, che tutte le sere ritrovava in tram ornato ad una decorazione qualsiasi, bianca, turchina, arancione o verde. Nel resto, la conversazione dei due uomini, dall'arco di trionfo Cina Nui-Yi, era sempre la stessa. In quel giorno, come i precedenti, parlarono anzitutto dei vari abusi locali, che urtavano l'uno e l'altro, e il sindaco di Nui-Yi centrava per la sua parte. Poi, come accade infallibilmente in compagnia di un medico, caravan abbordò il capitolo delle malattie, sperando in tal modo di spigolare qualche piccolo consiglio gratuito, o destreggiandosi abilmente senza darlo a di vedere, addirittura un parere. Infatti, da un po' di tempo, sua madre lo preoccupava. Aveva sincopi frequenti e prolungate, e benché vecchia di novant'anni, non voleva saperne di curarsi. La sua tarda età commoveva caravan, che ripeteva senza posa al dottor Chenet, «Ne conoscete molte che campino tanto!» e si stropicciava le mani con soddisfazione. Forse non già perché tenesse molto a vedere eternarsi in terra la buona donna, ma perché la lunga durata della vita materna era come una promessa per lui stesso. Continuò, «Oh, nella mia famiglia si va lontani. Così, a meno di un accidente, io sono sicuro di morire vecchissimo!» L'ufficiale di sanità gli lanciò un'occhiata di commiserazione. Considerò un attimo il volto congestionato del vecchio, il collo adiposo, il pancione cascante tra due gambe flosce e grasse, tutta la sua rotondità apoplettica di vecchio impiegato rammollito. E aggiustandosi con una manata il Panama grigio che gli copriva la testa, rispose sogghignando, «Adagio, amico mio! Vostra madre è uno stecco, mentre voi siete un sacco di ciccia!» Caravan mortificato, tacque! Ma il tram arrivava alla fermata. I due amici discesero e il signor Chenet offerse il vermuta al caffè di Globe, lì di fronte, del quale l'uno e l'altro erano clienti. Il proprietario e un amico allungò loro due dita che si strinsero di sopra le bottiglie del banco. Poi si avvicinarono a tre giocatori di domino che erano a quel tavolino sin da mezzogiorno. Fu scambiata qualche parola cordiale con l'inevitabile «Che c'è di nuovo?» Poi i giocatori ripresero la partita, quindi fu augurata a loro la buona sera e si tesero la mano senza alzare la testa e ciascuno dei due rincasò per pranzare. Caravan abitava vicino al rondò di Courbevoie, una casetta a due piani. Il pian terreno era occupato da un barbiere. Le due stanze, una sala da pranzo e una cucina, dove qualche sedia rabberciata errava da un locale all'altro secondo il bisogno, formavano tutto l'arredamento al cui ordine la signora Caravan dedicava l'intera giornata, mentre la figlia Marie-Louise, dodicenne, e il figlio Filippo Auguste, di nove anni, scorrazzavano nel rigagnole dell'Evnio con tutti i monelli del quartiere. Al piano superiore, il signor Caravan aveva sistemato sua madre, la valizia della quale era celebre nei dintorni, mentre la sua magrezza faceva dire che il buon Dieu aveva applicato su di lei i propri principi di parsimonia. Sempre di cattivo umore, ella non passava un giorno senza liti e collere furibonde. Apostrofava dalla finestra le vicine sulle loro porte, le venditrici ambulanti, gli spazzini e i monelli, che per vendicarsi, quando usciva, la seguivano da lontano gridando «Guarda la Befana!» Una servetta normanna, incredibilmente stordita, sbrigava le faccende di casa e nel timore d'un malore dormiva al secondo piano accanto alla vecchia. Quando Caravan rincasò, sua moglie, affetta da una malattia cronica di pulizia, lustrava con un cencio di lana il mogano delle sedie sparse nella solitudine dei locali. Portava sempre guanti di filo, si ornava la testa con una cuffia a nastri multicolori, eternamente pencolante e su un orecchio, e ogni volta che la sorprendevano mentre dava la cera, spazzolava, lucidava o lavava, ripeteva «Io non sono ricca, in casa mia tutto è semplice, ma la pulizia è il mio lusso, un lusso che vale quanto un altro». Dotata di un senso pratico caparbio, era in tutto la guida del marito. Ogni sera a tavola e poi in letto parlavano a lungo delle cose d'ufficio, e per quanto ella avesse vent'anni meno di lui, Caravan le si confidava come a un direttore di coscienza e ne seguiva i consigli in tutto e per tutto. Bella non era mai stata, ora era brutta, bassa, distatura e magrolina. La sua incapacità a vestir bene aveva sempre fatto scomparire le sue scarse grazie femminili, che avrebbero potuto emergere con arte in un abbigliamento di buon gusto. Le sue sottane sembravano sempre pendere da un lato, ed ella si grattava spesso in qualunque parte del corpo, indifferente della presenza altrui, con una sorta di mania che era quasi un tic. Il solo ornamento che si permettesse consisteva in una profusione di serici nastri, applicati alle cuffie pretenziose che aveva l'abitudine di portare in casa. Non appena scorsa il marito, ella si alzò, e baciandolo sui favoriti «Ti sei ricordato, di Potain?» Si trattava di una commissione che gli aveva promesso di sbrigare. La caravan cadde su una sedia, annientato. Aveva dimenticato per la quarta volta. «È una fatalità», diceva, «una fatalità. Un bel pensarci tutta la giornata. A sera mi dimentico sempre». E poiché sembrava desolato, lei lo consolò. «Non importa, provvederà ai domani. Nulla di nuovo al ministero?» «Sì, una grande novità. Un altro lattoniere nominato vice capo ufficio». Ella si fece serissima. «In che ufficio?» «Quello degli acquisti all'estero». Lei si inquietava. «Al posto di Ramon, dunque. Proprio quello che volevo per te». «E lui, Ramon, va in pensione?» E gli belbettò. «In pensione!» Ai sinviperi, la cuffia piegò sulla spalla. «Logia ormai è inutile pensare a quel posto. Niente da fare. E come si chiama questo tuo commissario?» «Bonassò». Ella prese l'annuario della marina che aveva sempre sotto mano e cercò Bonassò, Tolone. Nato nel 1851, allievo commissario nel 1871, vice-commissario nel 1875. «Ha navigato costui?» A quella domanda Caravan si rasserenò. Un impeto di larità scosse il suo ventre. Come Balain, proprio come il suo capo Balain. E ridendo più forte, uscì in una vecchia facezia che tutto il ministero trovava deliziosa. Bisognerà evitare di mandarli per via d'acqua e spezionare il posto d'imbarco del Pont du Jour. Sul vaporino soffrirebbero il mal di mare. Ma lei rimaneva seria, come se non l'avesse udito. Poi murmurò, grattandosi il mento ad agio ad agio. «Avessimo almeno sotto mano un deputato!» «Quando la camera saprà tutto quello che succede lì dentro, il ministero salterà senz'altro!» La frase fu troncata da grida che suddivano sulla scala. Maria Luisa e Filippa Augusta, che tornavano dalla strada, si sferravano calci e schiaffi di gradino in gradino. La madre, furiosa, si slanciò e, presi di ciascuno per un braccio, li tirò in casa a furia di strattoni. Non appena scorsero il padre, i ragazzi gli si precipitarono addosso ed egli ribaciò a lungo, con tenerezza. Poi, sedutosi, li prese sulle ginocchia e cominciò a chiacchierare con loro. Filippa Augusta era un brutto marmocchio spettinato, sporco da capo a piedi, con una faccia da cretino. Maria Luisa somigliava già alla madre. Parlava come lei, ripetendone le parole, imitandola persino nei gesti. Domandò a sua volta «Che c'è di nuovo al ministero?» E gli rispose allegramente «Il tuo amico Ramon, che viene a pranzo da noi tutti i mesi, ci lascerà, bambina mia. Al suo posto c'è un altro vicecapo». Lei alzò gli occhi sul padre e con una commiserazione di bimba precoce «Allora è con un altro che ti ha fatto lo sgambetto!» Egli smise di ridere e non rispose. Poi, per fare una diversione, rivolgendosi alla moglie che ora puliva i vetri, «Come sta la mamma?» La signora Caravan smise di strofinare. Si voltò, accomodò la cuffia che era ormai andata a finire sulla schiena e disse con labbra che tremavano «Gia, già, parliamo di tua madre». «Me ne ha fatta una bella. Figurati che poco fa la signora Labudin, la moglie del barbiere, è salita per domandarmi in prestito un pacchetto di amido e siccome io ero uscita, tua madre l'ha cacciata via trattandola da mendicante. Così io l'ho messa a posto, la vecchia. Ha fatto finta di non capire, come sempre quando le si dice la verità, ma è subito risalita in cabela sua senza dire una parola». Confuso, Caravan taceva quando la servetta si precipitò annunciando il pranzo. Allora, per avvertire la madre, prese un manico di scopa sempre nascosto in un angolo e picchiò tre colpi nel soffitto. Poi passarono in sala e la signora Caravan giovane scodellò la minestra in attesa della vecchia. Questa non veniva e la minestra si freddava. Allora cominciarono a mangiare ad agio ad agio. Poi quando i piatti furono vuoti aspettarono ancora. Furiosa, la signora Caravan se la prendeva col marito. «Ma fa apposta, sai, e tu le dai sempre ragione!» Lui, assai perplesso, preso fra le due donne, mandò Marie-Louise a chiamare la nonna e rimase immobile, ad occhi bassi, mentre la moglie batteva rabbiosamente il piede del bicchiere con la punta del coltello. Improvviso la porta si aperse e la bambina sola riapparve tutta ansimante e pallidissima e disse in fretta in fretta «Non è caduta in terra!» Caravan fu in piedi con un balzo e buttata la salvietta sulla tavola si slanciò su per la scala dove il suo passo risuonava pesante e precipitoso mentre la moglie, credendo a un'astuzia malvagia della suocera, lo seguiva più lentamente alzando le spalle con disprezzo. La vecchia giaceva prona quant'era lunga in mezzo alla stanza e quando il figlio l'ebbe voltata apparve immobile con la pelle giallognola rugosa in carta pecorita gli occhi chiusi i denti stretti e tutto il magro corpo irrigidito. Caravan, inginocchiato accanto a lei gemeva «Mia povera mamma! Mia povera mamma!» Ma l'altra signora Caravan dopo averla guardata un istante dichiarò «Mah! Un'altra sincope! Ecco tutto! Certo è per impedirci di pranzare!» Portarono il corpo sul letto lo spogliarono completamente e tutti Caravan, sua moglie e la serva cominciarono a frizionarlo. Magrado i loro sforzi la vecchia non riprese conoscenza allora mandarono Rosalie a chiamare il dottor Chenet questi abitava sul lungo fiume verso Suresne era lontano e l'attesa fu lunga finalmente arrivò e dopo aver considerato palpato o ascoltato la vecchia signora disse «È finita!» Caravan si abbatté sul corpo scosso da frequenti singhiozzi baciava congulsamente il volto rigido della madre piangendo con tanta profusione che i suoi lacrimoni cadevano come gocce d'acqua sul viso della morta. la signora caravan giovane ebbe un'appropriata crisi di dolore che ritta dietro il marito e metteva piccoli gemiti fregandosi ostinatamente gli occhi caravan la faccia gonfia i pochi capelli in disordine assai brutto nel suo dolore sincero si risolleva ad un tratto «Ma siete sicuro dottore? Siete proprio sicuro?» L'ufficiale di sanità si avvicinò rapidamente e maneggiando il cadavere con destrezza professionale come un negoziante che decantasse la sua merce «Ecco amico mio guardate l'occhio!» Sollevò le palpebre e lo sguardo della vecchia signora riapparve sotto il suo dito per nulla mutato con la pupilla forse un po' più larga caravan ebbe un colpo al cuore e un brivido di spavento gli attraversò le ossa il signor Chenet prese il braccio grinzoso forzò le dita per aprirle e con un aspetto iroso come di fronte a una contraddizione guardate guardate questa mano e poi io non mi sbaglio mai caravan si riabbandonò sul letto quasi mughiando mentre sua moglie tra un piagnucolio e l'altro cominciò a fare le operazioni necessarie avvicinò il comodino si stese su una tovaglietta e su questa mise quattro candele e li accese prese un amuscello di bosso che era infilato dietro lo specchio sul caminetto e lo mise tra le candele su un piattino che riempì d'acqua fresca perché quella benedetta non c'era poi dopo un attimo di riflessione gettò nell'acqua un pizzichino di sale pensando di compiere con quel gesto una sorta di consacrazione quando ebbe completato la messa in scena che accompagnava di solito la morte restò immobile in piedi l'ufficiale sanitario che le aveva aiutata a disporre gli oggetti le sussurrò all'orecchio faccia allontanare caravan lei fece un cenno di assenso e avvicinatosi al marito sempre singhiozzante e in ginocchio lo sollevò per un braccio mentre il signor scenello tirava su dall'altro per prima cosa lo fecero sedere su una seggiola sua moglie cominciò a parlargli e intanto lo baciava in fronte l'ufficiale sanitario sosteneva i propositi di lei e consigliava fermezza coraggio e rassegnazione insomma tutto quel che non si può avere in un caso di improvvisa sciagura poi tutti e due lo ripresero sotto braccio e lo trasportarono al piano di sotto piangeva come un bambino troppo cresciuto con singozzi convulsi flaccido le braccia penzoloni le gambe molle scese la scala senza rendersene conto muovendo i piedi automaticamente lo misero nella poltroncina in cui di solito si metteva a tavola davanti a una scodella quasi vuota col cucchiaio immerso in un rimasuglio di minestra rimase lì senza fare un gesto lo sguardo fisso sul bicchiere talmente inebetito che non pensava più a niente in un angolo la caravan stava parlando col dottore e gli domandava informazioni sulle cose pratiche da fare alla fine il signor Chenet che sembrava aspettasse qualche cosa prese il suo cappello e fermando di non avere ancora cenato salutò e fece per uscire lei allora lei allora esclamò ma come non avete cenato restate con noi dottore vi daremo quello che c'è in quanto lo capite di certo non mangeremo molto lui rifiutò si schernì ma lei insistette via restate in un momento come questo è un sollievo avere un amico vicino e poi riuscirete forse a convincere mio marito a mandar giù qualche cosina ha tanto bisogno di tenersi su il dottore fece un mezzo inchino riposò il cappello su un mobile e disse in questo caso accetto signora la caravan dette qualche ordine alla spaurita Rosalie e si sedette a tavola per far finta di mangiare disse così e per tenere compagnia al dottore ripresero la minestra che si era freddata se ne servì due volte poi fu portato un vassoio di trippa alla lionese odorosa di cipolla e la signora caravan decise di assaggiarla buonissima sentenzò il dottore lei sorrise vero e rivolta al marito assaggiane un po povero Alfred non rimanere a stomaco vuoto pensa ti toccherà far nottata lui prese docilmente il piatto così come si sarebbe messo a letto se glielo avessero ordinato ubbidendo a tutto senza resistere senza pensare mangiò il dottore che si serviva da sé prese per ben tre volte la zuppa dal vassoio mentre la caravan infilzava ogni tanto un bocconcino e l'ingogliava con una specie di distrazione finta quando comparve una zuppiera di colma di maccheroni il dottore esclamò per dinci che ghiottoneria e questa volta la signora caravan servì tutti quanti riempì persino le scodelle in cui intrugliavano i bambini che approfittando della mancata sorveglianza avevano bevuto vino puro e già cominciavano a prendersi a calci sotto la tavola il signor scennè ricordò quanto piacesse a rossini quel piatto italiano e improvvisò fa anche rima potrebbe essere l'inizio di una poesia i rossini molto buoni reputava i maccheroni non lo stava a sentire nessuno improvvisamente pensosa la caravan rifletteva sulle probabili conseguenze dell'accaduto suo marito faceva delle palline con la mollica del pane e le disponeva in fila sulla tovaglia fissandole con uno sguardo vacuo una gran sete gli ardeva in gola e portava continuamente alla bocca bicchierozzi di vino la sua mente già sottosopra per la scossa e per il dolore cominciava ad andare in qua in là sembrava danzare nell'improvviso stordimento della digestione iniziata a fatica il dottore da parte sua befeva come una spugna ubriacandosi rapidamente persino la signora Caravan reagiva a quella commozione nervosa ed era agitata turbata anzi anche se beveva soltanto acqua aveva la testa piuttosto annebbiata anche lei il signor ce ne aveva cominciato a raccontare tutte quelle storie di trapassi che secondo lui avevano un lato umoristico infatti in quella periferia abitata da gente venuta dalla provincia si riscontra la stessa indifferenza che hanno i contadini verso la morte anche trattandosi di quella del padre o della madre con una mancanza di rispetto e una incosciente ferocia tanto comune in campagna e tanto rare a Parigi raccontava per esempio la settimana scorsa mi ha chiamato d'urgenza lui mi precipito mi precipito ma trovo l'infermo già morto attorno al letto la famiglia si stava scolando tranquillamente una bottiglia di mistrà compratta alla vigilia per soddisfare una voglia del moribondo la signora Caravan non lo stava a sentire lei pensava solo all'eredità e Caravan con la testa vuota non capiva più nulla per tenersi su servirono un caffè fortissimo ogni tazzina corretta col cognac fece subito imporporare tutte le guance confondendo ancora di più quelle menti già vacillanti improvviso il dottore brandi la bottiglia di mistrà e versò a tutti l'ammazza caffè non parlavano erano intorpiditi dal tepore digestivo prigionieri senza volerlo del benessere animalesco causato dall'alcol dopo mangiato si sciacquavano la bocca col cognac zuccherato che aveva formato uno sciroppo biondastro nel fondo delle tazzine i bambini si erano addormentati e Rosalini mise a letto Caravan ubbidendo macchinalmente all'istinto che spinge gli sventurati verso lo stordimento si versò più volte altro mistrà gli occhi inebetiti gli luccicavano quando il dottore si alzò per andar via prese l'amico per un braccio dicendogli via venite con me un po' d'aria vi farà bene guai a star fermi quando ci ha infelici l'altro ubbidì docilmente si mise il cappello prese il bastone e uscì scesero verso la senna tutti e due a brazzetto sotto nitide stelle aliti profumati ondeggiavano nella calda notte perché i giardini circostanti erano pieni di fiori i cui aromi addormentati durante il giorno sembrava si fossero ridestati sul far della sera sprigionandosi insieme alle lievi brezze che espiravano nel buio lampe viale era deserto e silenzioso con le sue due file di lampioni a gas che si protraevano sino all'arc de triomphe laggiù si poteva ascoltare il mormorio di parigi avvolta in vapori rossastri era un brontolio ininterrotto a cui sembrava che rispondessero talora in lontananza il fischio di un treno che arrivava a tutto vapore o che si allontanava rapido attraverso la provincia verso l'oceano l'aria aperta colse di sorpresa i due uomini colpendoli in pieno viso sconvolse l'equilibrio del dottore e aumentò le vertisini che avevano assolito caravan dopo la cena camminava come in un sogno con la mente appannata paralizzata senza dolori acuti ma preso da una sorta di torpore morale che gli impediva di soffrire provava anzi un certo sollievo accresciuto dalle tiepide esalazioni diffuse nella notte giunti al ponte svoltarono a destra e il fiume li investì col suo soffio fresco ma l'inconico e tranquillo scorreva davanti a un sipario di alti pioppi pareva che le stelle galleggiassero sull'acqua mosse dalla corrente una nebbiolina lattiginosa ondeggiava sulla riva opposta e portava ai polmoni umidi e fluvi caravan si fermò improvvisamente attratto da quell'odore di fiume che gli faceva tornare nel cuore vecchissimi ricordi si vede di colpo sua madre negli anni lontani dell'infanzia incinocchiata davanti alla porta di casa laggiù in piccardia presso il rigagnolo d'acqua che attraversava il loro giardino intenta a lavare i panni ammucchiati accanto a lei nel placido silenzio della campagna risentiva quei tonfi e la sua voce che chiedeva Alfred portami il sapone e sentiva il medesimo odore di acqua che scorre la medesima nebbia che salza da terra impregnata d'umidità quel vapore di stagno di cui aveva conservato un ricordo indimenticabile dentro di sé e che ora ritrovava proprio la sera della morte di sua madre in un impetuoso ritorno di disperazione si irrigidì come se un improvviso lampo di luce avesse illuminato tutta la vastità della sua disgrazia il ritrovamento di quell'area in movimento lo fece sprofondare nel cupo abisso di un dolore per cui non c'è conforto il pensiero di quella eterna separazione gli straziò il cuore la sua vita era tagliata in due e tutta la sua giovinezza spariva inghiottita da quella morte era finito il passato erano svaniti i ricordi di adolescenza nessuno più avrebbe potuto parlargli di certe vecchie cose di gente conosciuta in passato del paese natale di lui stesso dei segreti della sua vita trascorsa una parte di lui aveva finito di esistere ora doveva morire anche l'altra cominciò la sfilata dei ricordi rivedeva mamma più giovane con addosso certi abiti che si erano logorati con lei portati pertanto di quel tempo che sembravano inseparabili dalla sua persona la ritrovava in mille circostanze dimenticate espressioni svanite gesti intonazioni abitudini manie collere rughe del volto movimenti delle dita magre tutti quegli atteggiamenti familiari che non avrebbe più avuto pianucolava aggrappato al dottore le flaccide gambe gli tremavano il corpo grasso era squassato dai singulti e balbettava la mia mamma la mia povera mamma la mia povera mamma ma il suo compagno ancora un po' brillo e desideroso di finire la serata in quei luoghi che frequentava di nascosto di fronte a quell'acuta crisi di dolore perse la pazienza la fece sedere sull'erba della prova e se ne andò quasi immediatamente con la scusa di una visita da compiere caravan pianse lungamente poi esaurite le lacrime quando la sofferenza fu per così dire volata via provò di nuovo sollievo riposo pace improvvisa si era alzata la luna e inodava l'orizzonte con la sua luce serena gli alti pioppi si ergevano con argenti riflessi e la nebbia sembrava neve che galleggiasse sul pianoro il fiume non più solcato dalle stelle natanti sembrava una scaglia di madreperla e scorreva appena increspato da tremolii luccicanti l'aria era dolce e la brezza carica di aromi nel sonno della terra c'era una specie di abbandono e caravan beveva la dolcezza della notte respirava profondamente nell'illusione di far penetrare sino all'estremità delle sue membra una freschezza una pace una consolazione subrumane eppure cercava di resistere a quel benessere che lo stava sopraffacendo ripetendo a se stesso mamma povera mamma sforzandosi di piangere per una sorta di dovere di persona da bene ma non si riusciva più ed era preso senza tristezza da quegli stessi pensieri che poco prima lo avevano fatto singhiozzare con tanta forza si alzò per far ritorno a casa e prese a camminare a passettini coinvolto nella serenità della natura e placato a suo malgrado appena fu sul ponte intravide il fanale dell'ultimo tran sul punto di partire e dietro le vetrine accese del caffè du globe fu finto allora dal bisogno di raccontare la sua disgrazia a qualcuno di farsi commiserare e rendersi interessante fece una faccia con punta spinse la porta del caffè e si diresse verso il banco dove troneggiava come sempre il padrone sperava di far colpo che tutti si alzassero in piedi e andassero incontro porgendo la mano che ti è successo ma nessuno notò la desolazione del suo volto allora si appoggiò al banco coi gomiti si prese la fronte tra le mani e sussurrò dio mio dio mio il padrone lo guardò vi sentite male signor Caravan e lui rispose no mio caro amico ma è appena morta mia madre l'altro fece ah distrattamente e poiché in quel momento dal fondo della sala un avventore chiedeva ad alta voce una birra per piacere rispose subito a quest'altro con voce stentoria pronto boom arrivo e corse a servirlo lasciando attonito Caravan i tre appassionati di domino stavano ancora giocando allo stesso tavolino assorti e immobili Caravan si avvicinò a loro in cerca di compassione pareva che non lo vedessero neppure si decise a parlare lui da quando ci siamo lasciati disse ma è capitata una gran disgrazia tutte tre assieme sollevarono appena la testa ma sempre con l'occhio fisso alle tessere che avevano in mano che è successo? è morta mia madre uno di loro sussurrò ah perbacco con un tono falsamente addolorato ma in realtà indifferente un altro non sapendo cosa dire scosse il capo emettendo un simbilo malinconico il terzo continuò a giocare proprio come se avesse pensato tutto qui? Caravan aspettava una di quelle frasi che dicono sgorgate dal cuore poiché si vide accolto in quella maniera andò via indignato dalla loro calma davanti al dolore di un amico anche se in quel momento quel dolore sarà tanto assopito che quasi non lo sentiva più uscì sua moglie lo stava aspettando accoccolata su un seggiolino basso accanto alla finestra e pensando sempre all'eredità gli disse spogliati parleremo a letto lui sollevò il capo e accennò verso il soffitto con lo sguardo ma su non c'è nessuno ma ti pare Rosalie è là e tu andrai a darle il cambio verso le tre dopo aver fatto un sonnellino comunque Caravan non si tolse le mutande per essere pronta ad ogni evidenza si annodò un fazzolettone attorno alla testa e raggiunse sua moglie che si era già infilata sotto le lenzuola per un po' rimasero a giacere in silenzio vicini ma stava pensando anche in quell'occasione aveva una cuffietta con le nappine rosa le pendeva su un orecchio come erano solite fare tutte le cuffie che si metteva girò all'improvviso il capo verso il marito e gli chiese sai se tua madre aveva fatto testamento vi esitò no non saprei no di certo non l'ha fatto la signora Caravan fissò il marito negli occhi e proruppe con una voce roca e piena di rabbia è una vergogna ecco qui sono dieci anni che ci ammazziamo per curarla per darle un tetto e pur il mangiare di sicuro tua sorella non avrebbe fatto altrettanto e io nemmeno ti avessi saputo come sarei stata ricompensata sì è una vergogna per la sua memoria tu dirai che ci pagava la pensione è vero ma l'affetto di un figlio non si paga col denaro si deve riconoscere con un testamento dopo la morte così si comportano le persone per bene ho sprecato a vuoto tante fatiche tanto lavoro bella roba bella roba stralunato Caravan non faceva che ripeterle tesoro tesoro mio ti prego ti scongiuro alla fine lei si calmò e riprese con il suo tono abituale domattina bisogna avvertire tua sorella il marito trassalì giusto non ci avevo pensato domani mattina presto spedisco un telegramma lei non torruppe col tono di una che ha già pensato a tutto no mandaglielo verso le undici almeno avremo il tempo di respirare prima del suo arrivo lasciare intorno qui al massimo ci metteranno due ore diremo che è di fuori di testa se l'avvertiamo in mattinata non ci compromettiamo di certo Caravan si dette un colpo alla fronte e col tono dimesso che assumeva ogni volta che parlava del suo superiore capace di farlo tremare solo a pensarci disse devo avvertire il ministero lei replicò e perché in casi come questo ogni dimenticanza è scusabile non avvertire da miretta il tuo capo non potrà rimproverarti anzi lo metterà in stato di inferiorità si si aggiunse lui sarà furioso non vedendomi arrivare hai proprio ragione tu è un'idea magnifica quando gli dirò che è morta mia madre dovrà chiudere bocca e l'impiegato tutto contento dello scherzetto che gli avrebbe fatto si fregava le mani pensando alla faccia del suo capo intanto al piano di sopra il corpo della vecchia giaceva accanto alla serva addormentata la signora Caravan sembrava preoccupata come assillata da un'idea fissa difficile da spiegare finalmente si decise tua madre non t'aveva regalato la pendola quella con la ragazza e il bibo lui cercò di ricordare rispose sì tanto tempo fa quando è venuta a stare qui ha detto la pendola sarà tua se mi tratterai bene la signora Caravan si rasserenò tranquillizzata e allora ce la dobbiamo prendere perché se viene tua sorella ce lo impedirà lui esitava credi e lei allora si arrabbiò certo che lo credo se in casa nostra appartiene a noi la stessa cosa vale per il cassettone di camera sua quello col marmo ve lo regalò un giorno che non le girava storto lo porteremo giù insieme alla pendola Caravan sembrava esitare ma tesoro è una grande responsabilità lei gli si rivoltò fu ribonda ah davvero tu non cambierai mai lasceresti crepar di fame i figli piuttosto di muovere un dito quel cassettone dato che me l'ha regalato è nostro o no e se a tua sorella non sta bene che me lo venga a dire me ne frego io di tua sorella avanti alzati andiamo subito a prendere quel che ci ha regalato tua madre sconfitto e tremebondo lui si alzò dal letto e fece per infilarsi i pantaloni ma lei glielo impedì che ti vesti a fare resta in mutande anche io vengo come sono si mossero entrambi in abbigliamento notturno salirono pian piano le scale aprirono la porta con precauzione ed entrarono nella camera dove sembrava che solo le quattro candele accese attorno al piattino col bosso benedetto vegliassero il riposo marmoreo della vecchia in quanto Rosalie sdraiata in poltrona con le gambe distese le mani incrociate sulla pancia la testa reclinata da un lato anche lei immobile con la bocca aperta dormiva e russava leggermente Caravan prese la pendola era uno di quegli oggetti buffi fabbricati in serie all'epoca dell'impero una giovinetta in bronzo dorato col capodorno di fiori teneva in mano un bibloché con la palla che faceva da bilanciere dammelo disse la moglie e tu prendi il marmo del cassettone lui ubbidì a fatica issò il marmo sulle spalle tornarono al piano di sotto Caravan dovette piegarsi passando sotto la porta cominciò a scendere per la scala traballando mentre sua moglie camminava a ritroso con la pendola sotto il braccio e facendogli lume con la mano libera quando furono in camera lei emise un sospirone e più è fatto disse andiamo a prendere il resto i cassetti del canterano erano pieni delle cianfusaglie della vecchia ed era necessario pure nasconderle da qualche parte la Caravan ebbe un'idea va a prendere la cassa della legna che è nell'ingresso e diabete non vale due soldi possiamo benissimo metterla qui portata sulla cassa cominciarono il trasferimento uno dopo l'altro tirarono fuori polsini collettini camicette cuffiette tutti gli stracci della vecchietta stecchita alle loro spalle e li disposero con metodo nella cassa in modo da ingannare la signora Brot l'altra figlia della defunta che l'indomani sarebbe arrivata lì quando ebbero finito portarono giù i primi cassetti poi lo scheleto del mobile reggendolo ciascuno da una parte per parecchio tempo studiarono dove avrebbe potuto far miglior figura decisero di metterlo in camera loro proprio di fronte al letto tra le due finestre una volta sistemato il bel cassettone la signora Caravan lo riempì con la sua biancheria la pendola fu messa sul caminetto della sala da pranzo e i coniugi si misero a contemplare che effetto faceva furono subito molto soddisfatti sta proprio bene fece lei e lui concluse sì proprio bene e allora se ne andarono a letto lei soffiò sulla candela e ben presto nei due piani della casetta tutti dormivano era giorno quando Caravan riaprì gli occhi si svegliò con la mente confusa e gli furono necessari alcuni minuti prima di ricordare quel che era accaduto il ricordo gli strinse il cuore dolorosamente e balzò giù dal letto nuovamente commosso sul punto di piangere in fretta salì nella stanza di sopra dove Rosalie stava ancora dormendo nella medesima posizione della sera precedente aveva fatto tutto un sonno la rimandò alle sue incombenze sostituì le candele che si erano consumate e si mise a guardare la madre rimuginando in mente sua certe parvenze di pensieri profondi certe banalità religiose e filosofiche che al cospetto della morte si fanno strada nei cervelli dei mediocri sua moglie lo stava chiamando discese aveva compilato l'elenco di tutte le cose che dovevano essere fatte nella mattinata e glielo mise in mano spaventandolo lesse 1. fare la dichiarazione di morte in municipio 2. chiamare l'ufficiale sanitario 3. ordinare la bara 4. passare a prendere accordi in chiesa 5. passare alle pompe funebri 6. ordinare la partecipazione in tipografia 7. andare dal notaio 8. andare al telegrafo per avvisare i parenti e inoltre un'infinità di piccoli incarichi lui prese il cappello e uscì si era già sparsa la notizia e cominciavano ad arrivare le vicine che chiedevano di vedere la morta a questo proposito al pian terreno nella bottega del barbier si era svolta una scenetta tra marito e moglie mentre lui faceva la barba a un cliente mentre faceva la calza sua moglie mormorò una di meno una esosa come poche altre è vero che mi era antipatica ma dovrò andarla a vedere lo stesso il marito bonfonchiò continuando a insaponare il mento del cliente ma che idea voi donne siete speciali non vi basta infastidirci da vive ci tormentate anche da morte senza scomporsi la moglie continuò è più forte di me devo assolutamente andarci ci sto pensando da stamattina se non l'andassi a vedere sono convinta che continuerai a pensarci per tutta la vita invece dopo che l'avrò guardata ben bene per ricordarmela sarò soddisfatta l'uomo con rasoio in mano si strinse le spalle e fece confidenzialmente al cliente che stava rasando mi domando e dico che razze di idee vengono in testa queste maledette donne io non mi divertirei di certo a guardare un morto la moglie che l'aveva udito gli rispose placidamente è come ti dico io puoi star tranquillo e posata la maniglia sulla cassa salì al primo piano c'erano già altre due vicine che stavano parlando della disgrazia con la signora Caravan che raccontava tutti i particolari andarono nella camera mortuaria le quattro donne entrarono una dopo l'altra in punta di piedi ha perso il lenzuolo con acqua salata si genuflessero e fecero il segno della croce borbottando una preghiera e finalmente si rialzarono con gli occhi sgranati e la bocca spalancata osservarono a lungo il cadavere mentre la nuora della defunta si teneva il fazzoletto sul viso per simulare un singulto disperato quando lei si voltò per uscire vide Marie-Louise e Philippe Auguste che guardavano incuriositi in camicia da notte in piedi presso la porta allora dimenticò il suo finto dolore e si precipitò contro di loro con la mano alzata esclamando minacciosamente fuori di qui ragazzacci risalì qualche minuto dopo con un altro gruppo di vicini e dopo aver scrollato nuovamente il bosso sul letto della suocera dopo aver pregato spremuto qualche lacrima ed impiuta tutti i suoi doveri quando si voltò vide di nuovo i due ragazzi che erano tornati dentro dietro di lei li prese a scappellotti per scrupolo di coscienza ma la volta successiva non fece più caso a loro e a ogni gruppo di visitatori i due ragazzi si accodavano si inginocchiavano e rifacevano pari pari quel che vedevano fare alla loro mamma nel primo pomeriggio la folla dei curiosi diminuì e poi non si fece vedere più nessuno la signora Caravan tornata giù era occupata a preparare la cerimonia funebre la defunta rimase sola la finestra della stanza era aperta entrava un caldo torrido insieme con folate di polvere le fiammelle delle quattro candele tremolavano accanto al corpo immobile sul lenzuolo su quel viso con gli occhi chiusi sulle mani distese si arrampicavano dei moschini andavano e venivano passeggiando senza pose e facendo visita alla vecchia in attesa della loro ora vicina mariluise e philippo august erano andati a fare un giretto nel viale gli fecero subito cappanello attorno ai loro compagni soprattutto le ragazzine più sveglie e già pronte a intuire i misteri della vita facevano le stesse domande delle persone grandi è morta la tua nonna? si ieri sera e com'è un morto? allora mariluise dava spiegazioni descriveva le candele il bozzo il viso si ritestò una gran curiosità nei ragazzini e anche loro chiesero di salire dalla morte mariluise organizzò immediatamente una prima spedizione cinque femmine e due maschetti i più forti e coraggiosi li costrinse a togliersi le scarpe per non farsi scoprire il gruppo si infilò nella casa salirono svelti come un branco di sorcetti quando furono nella camera la ragazzina imitò sua madre nel regolare il cerimoniale guidò con solennità ai compagni si genuflesse si fece il segno della croce mosse le labbra in preghiera si rialzò asperse il letto e mentre i ragazzini si appressavano in gruppo serrato traspaventati incuriositi e attratti per contemplare quel viso e quelle mani all'improvviso finse di singhiozzare coprendosi gli occhi col fazzolettino si consolò subito pensando a quelli che stavano aspettando fuori dell'uscio e trascinò fuori i visitatori di corsa riportò in casa un altro gruppetto poi un terzo poiché tutti i bambini della zona persino i piccoli mendicanti straccioni erano accorsi per questo nuovo divertimento ogni volta lei rifaceva con assoluta perfezione le smorfie di finto dolore viste dalla madre dai e dai si stufò un altro gioco portò a trovi i ragazzini e la vecchia nonna rimase sola dimenticata da tutti il buio invase la stanza sul viso l'insecchito rugoso le fiammelle tremolanti delle candele facevano danzare dei chiarori verso le otto il caravan salì su cambiò le candele e chiuse la finestra ormai già abituato alla vista del cadavere entrava tranquillamente come se da mesi quel colpo fosse lì constatò persino che non si notavano segni di decomposizione e lo fece osservare alla moglie mentre si mettevano a tavola per la cena lei rispose lo credo bene era dura come il legno potrebbe andare avanti così per dei mesi mangiarono la minestra senza scambiare una parola i ragazzini che erano stati liberi per tutta la giornata stanchi morti sonnecchiavano sulle sedie tutto era silenzio a un tratto la luce della lampada diminui la signora caravan girò subito l'apposita chiavetta ma l'apparecchio mandò un suono cavernoso come di qualcuno che si stia raschiando la gola e la luce si spense c'erano dimenticati di comprare il petrolio per non far freddare la cena rinunziarono ad andare dal droghiere cercarono delle candele ma c'erano rimaste soltanto quelle accese al piano di sopra sul comodino con rapida decisione la caravan mandò subito mariluise a prenderne due l'aspettarono al buio si sentivano con chiarezza i passetti della ragazzina che saliva le scale aprì la porta ancor più spaventata della sera precedente quando aveva annunciato la disgrazia e sussurrò quasi senza fiato oh papà la nonna si sta vestendo con uno scatto talmente brusco da far finire la sedia contro la parete caravan salzò in piedi balbettò ma che dici che stai dicendo mariluise con la voce strozzata dalla paura ripete la nonna la nonna si sta vestendo sta per scendere il figlio si slanciò sulle scale come impazzito seguito dalla moglie stupefatta ma si fermò davanti alla porta del piano superiore tremante di paura senza avere il coraggio di entrare che mai avrebbe veduto sua moglie più ardita girò la maniglia ed entrò la camera sembrava più buia nel centro si muoveva una grande ombra scarna era la vecchia in piedi svegliandosi da un sonno letargico prima ancora d'aver ripreso piena conoscenza girandosi di fianco e sollevandosi su un gomito aveva spento tre delle quattro candele che erano accese presso il cataletto poi riprese le forze si era alzata per prendere i vestiti da principio era rimasta stupefatta per la sparizione del cassettone poi aveva ritrovato la sua roba in fondo alla cassa della legna e si era vestita tranquillamente dopo aver gettato l'acqua del piattino e aver collocato di nuovo il bosso nella cornice della specchiera e ogni sedia al posto suo era pronta per scendere quando le si fecero innanzi il figlio e la nuora caravan si precipitò in avanti le prese le mani e le baciò con le lacrime agli occhi mentre dietro di lui la moglie ripeteva con tono falso che fortuna ma che fortuna e la vecchia senza commuoversi e senza nemmeno aver l'aria di capire rigida come una statua lo sguardo gelido si limitò a dire la cena è pronta? il figlio fuori di sé belbetò certo mamma ti stavamo aspettando e con insolita premura la prese sotto braccio mentre la caravan giovane con il candeliere in mano faceva lume per le scale discendendo avanti a loro a ritroso scalino per scalino come aveva fatto quella notte davanti al marito che trasportava la lastra di marmo al primo piano mancò poco che urtasse alcune persone che stavano salendo erano i parenti di Sherenton la signora Brough seguita dal marito la donna alta e grossa con un pancione da idropica che le rimandava in su il busto spalancò gli occhi in orridita era pronta alla fuga suo marito un calzolaio e anche socialista ometto peloso fino alle narici quasi una scimmia si ribitò a mormorare senza emozione e allora è risuscitata non appena la signora caravan li ebbero avvisati fece una smorfia di disperazione poi esclavò guarda ma che bella sorpresa la signora Brough è sterrefatta e non riusciva a capire e rispose a mezza voce siamo venuti per via del telegramma credevamo che fosse finita dietro a lei il marito le dava pizzicotti per farla tacere poi disse col sorriso di Tila Salunga dissimulato nella folta barba molto gentile da parte vostra averci invitato ci siamo precipitati facendo allusione così alla discordia che da tanto tempo esisteva tra le due famiglie poi mentre la vecchia era arrivata agli ultimi scalini le andò incontro rapido le fregò sulle guance il pelame che gli copriva il viso e le urlò in un orecchio a causa della sordità come va mamma sempre in gamba non è vero la signora Brough stupita di ritrovare viva e vegeta con lei che si aspettava di vedere morta non aveva nemmeno il coraggio di abbracciarla e con l'enorme pancia ingombrava il pianerottolo impedendo agli altri di venire avanti la vecchia inquieta e sospettosa ma senza aprir bocca osservava tutta quella gente che le stava attorno e i suoi occhetti grigi duri e indagatori si puntavano ora su questo ora su quello pieni di evidenti rimproveri che mettevano in imbarazzo i parenti per dare una spiegazione Caravan disse si è sentita maluccio ma ora sta bene benissimo anzi non è vero mamma allora la vecchia li prese a camminare e con la sua voce a singhiozzo proveniente da lontano lontano disse è stata una sincope ho sentito tutto quel che avete detto seguì un silenzio pieno di imbarazzo entrarono in tinello e si accomodarono davanti a una cenetta improvvisata in pochi minuti solamente il signor Blu appariva a suo agio la faccia da scimmia dispettosa era tutta una smorfia mentre buttava lì certe frasette a doppio senso che mettevano tutti in imbarazzo il campanello dell'ingresso suonava di continuo e la stordita Rosalie correva a chiamare Caravan che buttando via il tovagliolo salzava in fretta e furia il cognato gli domandò se quella era per caso la giornata in cui ricevevano gli amici lui belbettò niente cosette da sbrigare consegnarono un pacchetto e lui distrattamente lo aprì apparvero le partecipazioni di lutto debitamente listate di nero allora rassifino alla punta delle orecchie mentre le faceva sparire sotto il panciotto sua madre sua madre non aveva visto niente ma continuava a fissare con ostinazione la sua pendola col bibocchè dorato che oscillava sopra il caminetto in un silenzio gelido l'imbarazzo continuava a crescere a un certo momento la vecchia rivolse alla figlia il viso rugoso da strega e disse con un lampo di malizia nello sguardo lunedì portami la tua piccolina ho voglia di vederla la signora Bro col volto raggiante esclamò si mamma mentre la signora caravan giovane era diventata pallida per l'angoscia e quasi si sentiva prossima a uno svenimento intanto gli uomini a poco a poco avevano cominciato a chiacchierare quasi senza motivo intavolavano una discussione sulla politica Bro che professava dottrine rivoluzionari e marxiste si agitava con gli occhi accesi nella faccia pelosa e gridava la proprietà signor mio è un vero e proprio furto alla classe dei lavoratori la terra è di tutti l'eredità è un'infamia e uno scandalo a questo punto si fermò di colpo come uno che è consapevole di aver detto una corbelleria aggiunse subito con un tono di voce molto più morbido non è il momento di discutere su certi argomenti si aprì la porta e fece la sua apparizione il dottor Chenet si sgomentò solo per un attimo e si riprese immediatamente si avvicinò alla vecchia dicendo ah oggi la mamma sta bene sapete ne ero sicuro proprio mentre salivo le scale pensavo che oggi la nonna sarebbe stata in piedi e batte un colpettino sulla spalla è solida come il pont neuf vedrete che ci sotterrerà tutti quanti si sedette accettò il caffè che gli offrirono e si intromise subito nella conversazione tra i due uomini appoggiando Bro in quanto anche lui si era compromesso nella comune la vecchia sentendosi stanca volle uscire di lì caravan le fu subito vicino ma ella fissandolo gli ordinò quanto a te riporta subito di sopra il mio cassettone e la pendola e mentre lui sussurrava si mamma si appoggiò al braccio della figlia e sparì con lei i due caravan erano pieni di spavento senza parole annichiliti da quel tremendo disastro mentre Bro si sfogava le mani tra un sorso e l'altro del caffè all'improvviso la signora caravan resse quasi folle dall'ira si scagliò contro di lui urlando siete un ladro un mascalzone una canaglia vi sputo in faccia vi vi non sapeva più che dire era senza fiato Bro rideva seguitando a bere in quell'attimo ridiscese la moglie e si lanciò sulla cognata tutte e due una gigantesca con la panciona minacciosa l'altra epilettica rinsecchita con la voce alterata e le mani tremanti si rivolsero reciprocamente veri torrenti di ingiurie Scenebro si misero tra le due quest'ultimo dopo aver acchiappato la moglie alle spalle la buttò da una parte gridandole pussa via Somara ragli troppo mentre andavano via si sentiva che continuavano a litigare per la strada il signor Scene si congedò i caravan rimasero soli lui scivolò su una sedia la fronte imperlata di un sudorino freddo e mormorò e adesso al capufficio che gli racconto